Avviare nuovi accordi nell'ambito della pesca tra gli imprenditori pugliesi ed albanesi per creare una nuova filiera produttiva. È lo scopo del forum organizzato a Bari nell'ambito delle attività del progetto Prices, programma regionale integrato di cooperazione economica e sociale, accordo di programma quadro dei paesi balcani, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Gli imprenditori pugliesi e albanesi sono tornati quindi a riunirsi a Bari dopo alcune intese commerciali stabilite nel dicembre scorso a Scutari in Albania. E dopo le idee già messe in campo questa volta gli imprenditori puntano ad un ponte che colleghi Puglia e Albania in nome della pesca sulla base del regolamento comunitario per la pesca e l'acquacoltura. Ad avviare i lavori l'assessore regionale all'agricoltura e alla pesca Dario Stefano che ha parlato di ottime possibilità di sviluppo tra i due paesi nel settore della pesca. Lo scenario nuovo che ci viene proposto in sede europea quello di un regolamento che disciplina nuove modalità di pesca che ha l'obiettivo di tutelare gli stock hitterci e quindi di tutelare questo grande patrimonio che è il Mediterraneo debba necessariamente rappresentare un'occasione sulla quale costruire un modello di sviluppo sulla pesca.